ciao amici oggi sono qua perché volevo voglio mettere natalizia la mia la mia postazione della camera questa qui e adesso dobbiamo vedere di spostare qualcosa spostiamo questo qui anche questo lo mettiamo qui e questo così questo lo lascio e allora iniziamo possiamo mettere questo qui dopo vi faccio vedere da vicino o no meglio qua così lo vedo anch'io adesso vi faccio vedere da vicino ho preso questo guardate che bello non mi ricordo quanto costato ma sui 12 euro prometto qui così lo vedo anch'io poi ho preso questo ce l'avevo già si accende si accende così la lucina vedi vedete e lo metto sopra questo così e sopra metto anche un babbo natale una tazza di babbo natale guardate che bella così dopo c'è questa qui di noel che la metterò qui così scritta così dopo ho preso un babbo natale è un polletto vediamo dove lo metto un po letto lo metto qui e babbo natale lo metto qui guardate adesso c'è questo che il pupazzo di neve che lo posso mettere qui nell'angolo c'è questo albarello che si accende vedete che lo metto qua sotto qui convicino il babbo natale e queste piccole renne a forma di candela nel mezzo qui e dopo c'è un'altra piccola renne a ma perso il naso e lo metto mettiamolo qua su così si vede ma c'è questo ma estivo lo metto qua giù ecco come vedete il mio angolo ho già finito adesso vediamo con le lucine queste qui erano sempre sempre state lì non li ho tolte vediamo con le lucine come viene teniamo questo si vede qualcosa se no c'ho altre lucine ma non c'ho le batterie da mettere magari lì un attimo provo a guardare provo a guardare un attimo ciao sono tornata ho trovato questo babbo natale qui intanto che cercavo le bar le batterie vedete questo babbo Natale qui che lo metterò qua giù al posto di questo e questo lo metto qui poi ho trovato queste lucine qui lucine sono tantissime mi si è spaccata la fare mi sa dove è andata la cerco là che le metterò qui intanto le sistemo con questo scotch qui di Natale le fermerò un po' tanto perché non guardano in giro tanto così qui poi mi metto sopra qui dopo vedete io non sono capace tanto di fare sti adobe qua ma speriamo che vengano bene e che vi piacciono tengono come un gatto intragenziale dopo comprerò quello più devo disfarle le mettiamo qua sotto così facciamo così intanto dopo quando comprerò questo lo metto lì vediamo di aprire e vedere come sono ste lucine qui anche se si è spaccata la fare ecco ad attività messe meglio poi adesso adesso spigna adesso spengo è centro a luce guardate vediamo se si vede meglio adesso 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 spengo eh la luce guardate vediamo se si vede meglio vedete aspetta che spengo anche questa si vede qualcosa vediamo si si vede le luci devo comprare lo scotch un po più resistente ma per il momento è questo il mio scotch vi piace adesso accendiamo che questo devo accendere anche l'altra luce spero che vi piaccia mi metto più vicino così mi vedete meglio spero che vi piaccia il mio ci sono gli spiriti il mio angolo di natale domani andrò con lavoro farlo spesa comprerò uno scotch decente perché adesso qui in casa non ce l'ho e vediamo come sta come primo vlogmas di natale spero che vi sia piaciuto sì ma non ne faccio tanti e faccio questo faccio presepe giù in sala poi faccio andare da me il balcone e dopo vediamo per un momento faccio questo quegli altri due se vi è un bel tempo che si sperano però fare anche la scala sul balcone perché non ho l'albero non ho voglia di c'è una scala vecchia mio padre ha detto di sì e quindi speriamo che faccia un bel tempo se mai piove dopo la tiro dentro e la lascio che si veda fuori nel senso c'è la porta finestra e si vede da fuori no però se è bel tempo la lascio fuori altre cose io comunque faccio sempre tre video alla settimana se poi capita magari ne farò quattro ma più di quelli non riesco a farli a farli mi dispiace io li faccio il martedì il giovedì il sabato e magari se capita domenica spero che siate contenti lo stesso e quindi vi ringrazio ciao amici state bene e ci vediamo sabato ciao ciao amici ah sì come sempre se vi è piaciuto il video lasciate un like se non vi è piaciuto lasciate un dislike se non siete iscritti e vi sono piaciuta mettete iscrivetevi oggi vi lascerò l'indirizzo nella prima nel primo messaggio così tutti quelli che vorranno scrivermi una cartolina potrà fare se volete che vi scriva anche io scrivetemi il vostro indirizzo mandatemelo in privato su instagram o o niente c'è anche l'email qualche volta in qualche video messa sotto sotto nell'info box già l'email se volete mandarmi un email con il vostro indirizzo io vi scrivo le cartoline che a me piace scrivere ok grazie siete stati tanto gentili un bacione ci vediamo la prossima ciao ciao